più tre e mezzo il benarrivato di selorico da beira giornata di blu però le termiche ci sono l'inversione primi minuti di exoset per ora non mi sono tirato in faccia la vella già sono contento ora andiamo a terrare a selorico che è il paese qua sono quasi le 5 e voletto di preparazione oggi sembrava ci fosse nulla e come sempre i bei alti piani regalano un bel po